e sperimentabile, un mondo dal quale le idee sarebbero state e sono state da lui inevitabilmente chiamate in casa e che ha offerto e offrirà quindi alle generazioni l'opportunità di crescita educativa rispetto a tanti intellettuali, la cui loro opera relativamente lineare e semplice, persino gioiosa o armoniosa non presenta alcun appiglio per la nostra analisi, non più di quanto ne potremmo trovare nuovo, bello, legato, magari anche dorato come si usa a fare con quelli di Pasqua. Bene, è dagli appigli che Dalbergo ci offre il suo pensiero che noi consideriamo che il tema delle fasi, che dovremmo trattare, che lo esplicherò più di tanto qui, che il tema delle fasi, delle tre fasi, con cui prima si cerca una legittimazione, guardate che, pensateci bene, facciamo un mente locale al diciannoismo e all'89 la sua volta della polonia, eccetera, eccetera. La prima fase è quella in cui si cerca una legittimazione, ad esempio con l'antistatalismo che era sia del diciannoismo fascista che anche del PDS in convergenza colleghismo. L'antistatalismo è stata l'origine della legittimazione del fascismo e anche l'origine della legittimazione dei PDS a governare. Poi viene l'inserimento negli apparati di governo facendo appello all'interclassismo, interclassismo anche questo, proprio del fascismo come del leghismo e del PDS-ismo, inteso come vera e autentica collaborazione di classe, altro che è criticare il compromesso storico, politico, eccetera, compromesso di classe. E infine, per mantenersi e consolidarsi al governo, si punta ad un nuovo regime, mutando il regime economico, sociale, e costituzionale, costituzionale vigente, rivendicando riforme istituzionali. Io non so come se lo ricordo, però da Dalbergo l'abbiamo imparato. Rivendicazioni di riforme istituzionali che sono state economico, non sociale e costituzionali, che sono state rivendicate, avanzate dal fascismo quando si fece il partito della nazione. Andate a rileggere i documenti e trovate la rivendicazione di riforme istituzionali, tramite la cosiddetta costituzione materiale o quella che Dorsi ha chiamato rovescismo e che Dalbergo chiamava il ripensamento arretramento, di cui la forma teorica del ripensamento arretramento è la governabilità. Quindi rovescismo, ripensamento, arretramento, revisionismo sia storico che costituzionale e instaurando il più vieco statalismo, dopo aver cercato di legittimarsi con l'antistatalismo, con il più vieco statalismo, qual è, adesso non ricordo più, qualcuno l'ha accennato bene, qual è il liberalismo? La più grande mistificazione, imbroglio che è stata fatta in questi ultimi 40 anni è stato quello, dimenticando persino la storia, d'altra parte hanno detto che la storia non bisogna cancellarla, apprezzano dalla memoria, che significa cancellare la funzione dell'uomo, se non sbaglio, qual è la funzione dell'uomo? La memoria, la trasmissione del sapere, eccetera. Quindi hanno cancellato la storia, per cui hanno dimenticato che cosa è stato il liberalismo innanzitutto da dei suoi albori, che è statalismo, nasce, cresce, si sviluppa grazie alle leggi statali. Pensate soltanto al Dazio, tanto per dirne una, ma pensate cosa diceva Grange sui parlamenti maggioritari, eccetera, che è intesi come trade unions della Polesia, perché, sottolineava Grange, ovviamente svalutato, dimenticato, eccetera, è forma di statalismo, non soltanto leggi che affermano un potere di intervento dello Stato nel campo dell'economia, ma è statalismo anche quello che afferma la dismissione di un potere di Stato affidato semplicemente a favore delle imprese. Se io faccio una legge a favore delle imprese, come oggi mi hanno citato a un fottiglio, no? Quello è statalismo. E da gli anni Ottanti poi, a partire appunto dalla mistificazione del post-fordismo, del post-tutto, è passata l'idea che non c'è più lo Stato, e quindi non c'è più lo statalismo perché c'è il liberalismo, la mondializzazione, la globalizzazione, cioè mancando proprio in quei punti di analisi sul rapporto tra capitalismo finanziario e istituzioni sia statali nazionali che sovranazionali. C'è una totale mancanza di analisi del rapporto economicistico che è stato instaurato a partire proprio dagli anni Ottanta, quando si diceva che invece è finito lo statalismo, per cui non c'è più il fordino non c'è più lo statalismo, basta la oltra di classe. Questo è l'inizio degli anni Ottanta perché hanno detto c'è l'innovazione tecnologica, quindi con l'innovazione tecnologica cosa serve la oltra di classe? Come se fossimo stati alla prima rivoluzione industriale della storia, ci sono stati almeno cinque. E quindi è quello appunto dell'instaurazione di uno statalismo che è appunto però quello della forma di Stato inteso come governo. che significa quindi burocrazia e anche polizia, ovvero per dirlo con il famoso Stato di notte eccetera, la famosa frase, gendarmeria. Una gendarmeria, secondo questa famosa definizione, sia nazionale che internazionale. Ecco dopo allora il discorso sullo Stato, perché ovviamente cittava la sovranità popolare. La sovranità popolare della Repubblica fondata sul lavoro è solo il punto chiave, pertanto di un discorso sulla Costituzione, e questo non ci piove. Quello che invece ci piove molto è tenere presente, un discorso se non ricordo chi ha accennato questa mattina, forse loro, ma anche altri, che la nostra Costituzione è stata avversata dal primo giorno stesso in cui è stata approvata, anzi dico ancora prima, durante la Costituente. perché se la caduta del fascismo come fine dell'esistenza di apparati di Stato e di classi dirigenti, in essi insediatesi per consolidare i rapporti di dominio sulla società, specie sulla classe operaica, in una sovranità popolare, non potevano trovare nell'instaurazione di un nuovo ordinamento già fondato sulla sovranità popolare, di cui la resistenza, i CLN, rappresentavano un'originaria fonte, materiale, personificazione, eccetera. Non potevano trovare un elemento di riscontro per dare più incisiva attività politica e sociale necessaria per estirpare nelle basi della società ogni causa di disgregazione, che è la fonte naturale del fascismo e in generale dei ritorni reazionari. Ecco perché, a mio avviso, siamo nel 1924. Perché non c'è nulla come la disgregazione che favorisce la possibilità di svolte e di interventi reazionari e realmente fascisti, perché lo sappiamo anche storicamente, e quasi ha, come si diceva, uso un po', diciamo così ogni tanto lo dico in forma letteraria, usando un po' la letteratura, il mondo nuovo, secondo cui l'idea è che ogni fenomeno di disgregazione è progresso. Cioè è nata, a partire dal famoso libro, il mondo nuovo, eccetera, nell'idea di un progressismo che sia, per cui anche la fase di disgregazione di una società o della borghesia, eccetera, diventa un progredire, un progresso, anche se stai progredendo verso il burro. E che poi è quello che oggi traducono dicendo magari conservatore, cioè dimenticando il significato storico delle parole, come lei parlava prima che per altre parole. Allora non c'è però da sorprendersi, ho chiuso, per rimarcare in particolare la responsabilità dei giuristi, che, compreso quelli che parlano di manutenzione, dicono di difendere la Costituzione. Se addirittura in piena discussione generale del testo della Costituzione, a proposito dell'articolo 1, relativo al lavoro, Piero Caramandrei, Piero Caramandrei si alzò ed esclamò. Non riduco la frase, ma è una parte, sono le sue parole. Io che sono giurista non saprei come spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica è fondata sul lavoro. Quindi come si vede si tratta di un vizio di fondo e fin dalle origini che coinvolge i giuristi in particolare, persino nel momento in cui adesso è commesso un compito di cui nessuno negherebbe la natura politica come è quello di fare la Costituzione, perché non c'è niente di più politico di una Costituzione contro tutti quelli che pensano che si tratta di fare giuridicismo. Quindi fare una Costituzione è fare la cosa più politica che ci possa essere, ovvero creare una rappresentanza e di rappresentare una forza politica che assieme ad altre, tutte democratiche, tutte antifasciste, unite in uno sforzo comune per dare basi nuove allo sviluppo dei rapporti sociali e politici, sia rispetto allo Stato prefascista che contro il fascismo ha nidiato, qualcuno parlava di continuità stamattina, ha nidiato in tante strutture economiche, amministrative e anche politiche, non già per scrivere norme rispondenti ad esigenze della cosiddetta tecnica giuridica. Ora, banale ricordare che non c'era tecnicismo giuridico non l'ha stato tutto albertino e tuttavia durò a lungo. La Costituzione di Weimar, che qualcuno prende ancora oggi il coraggio di prendere a modello, la Costituzione di Weimar invece era il prodotto del tecnicismo giuridico più raffinato e non durò che dieci anni e senza nemmeno essere un modello di tecnica legislativa. Quindi il vizio dei giuristi e delle forze concordanti con essi è un vizio antico e contestativo della Costituzione fin dalle sue origini. Ho chiuso. Sinché, dico, le implicazioni del raccordo tra valori dell'antifascismo e politica di attuazione, per questo mi dispiace che non abbia potuto ricollegarmi a Dorsi, dell'antifascismo politico e di attuazione delle riforme necessarie per estirpare le basi reali e ideologiche del fascismo, è stata rifiutata fin dall'inizio in nome di una concezione dell'antifascismo artificiosamente rivolta a superare la contrapposizione tra fascismo e democrazia. Ci si è tesi e voi avete sentito stamattina l'intervento di come ha fatto tutto questo escursus, no? Su come hanno cercato appunto di superare la contrapposizione tra fascismo e democrazia. Per una pacificazione necessaria, ma che se anche come appunto un'idea di togliati iniziale fosse necessaria, non perciò poteva essere o può essere elusiva della natura dei problemi proposti per conto della democrazia, dalle forze consapevoli che un serio antifascismo non dovesse consistere, ecco l'idea di togliatiati, nella persecuzione, ma piuttosto nell'incisività di un indirizzo politico capace di sradicare il seme della reazione antisociale con un testo come le vostre istituzione.